eccoci qua noi a breve cominciamo dica 33 però prima di cominciare datemi la possibilità di ringraziare tutti voi i fedelissimi dei social che ci scrivete in tanti ci mettete mi piace ci mettete i commenti anche con dei bei suggerimenti sul programma il nostro format ormai sapete come funziona uno spazio totalmente dedicato a voi quindi se avete anche magari qualche cosa di interessante da proporci noi siamo a vostra disposizione basta che mandate una mail a dica 33 chiocciolina agoncennotv.com con suggerimenti a parte ovviamente tutte le varie mail che ci avete mandato per partecipare al gioco sapete benissimo uno spazio totalmente dedicato a voi soprattutto voi dei social se avete voglia di farci commenti con i suggerimenti per noi sono molto molto utili quindi innanzitutto vi do un grosso abbraccio spero di sentirsi al telefono come funziona qua dica 33 ovviamente rispondendo dica 33 devo cominciare assolutamente quindi basta così ciao 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 ciao